Quando gli italiani parlano di basil, amico, pinnaccia, cheese e oliva, sai cosa stanno parlando. Pesto è una delle più grandi sauce del mondo, lo puoi usare in una varietà di ricette e la sua freschezza e l'aroma davvero stanno davvero. Oggi ti guide nella bellissima tradizione di preparare il pesto. Ingredienti sono molto semplici, procedure anche, ma bisogna le tue giuste. Prima di iniziare con questo trip, iscrivetevi al canale e attivate le notificazioni per supportare il mio lavoro. Cominciamo, come sempre, le mani esattamente sono nella descrizione sotto. Prima di prima, vuoi tosse le pinnaccia, questo aiuterà ad aumentare l'amore. Prendete un piccolo pan, cuore e mettete in le tue pinnaccia, becatevi di non farnele. Quando si arriva di un colore gold e brown, prendetele e siete pronti per preparare il pesto. Questa è la start of the show, si chiamano mortare e è veramente pesante perché è fatto da una stessa. Puoi usare un mixer, ma il risultato sarà un po' diverso e rischierai di burnere il tuo basilio. Con il mortare, mantenete il colore verde e il pesto sarà meglio. Ovviamente, bisogna un basilio, fresco, molto verde e con un grande aroma. E per finire, qualche cheese. Ho usato qualche pecorino e parmigiano reggiano, ma nella ricetta originale usano il fiore sardo, che è pecorino cheese dalla sardinia. Ora, cominciamo il show. Prendete le pinnacce nel mortare con qualche salto. Inizia a bruciare gentri per creare un tipo di purè. Aggiungere il carico e continuate a bruciare tutto insieme. L'amore è già incredibile. Quando tutto è semplice, inizia ad aggiungere le tue basi. ricordate, solo le tue basi. Lasciate gentri, vuoi ottenere una fina textura. Finita ad aggiungere tutto il basilio e quando si sembra simile a questo, aggiungere il tuo cheese. Mizzate bene e prendete il tuo tempo. Nel ultimo, mettete in l'olio extra virgine, bisogna chiedere un delicato, perché un forte avrò il gusto di gentri del basilio. Mizzate bene e questo è il risultato. Finno, crema e, mio Dio, spero di poterlo. È incredibile. Ora cuoceremo la pasta tradizionale. È pasta fresca ma senza ucchi, solo l'acqua e l'acqua. Vedete la forma? Questi sono chiamati trofie e è l'originale pasta che viene con il pesto. Nella ricetta originale, le persone da Genova, la città dove il pesto viene, che è nella regione di Liguria, aggiungono anche le tue basi e i cubi di potato. In ogni modo, questa pasta è molto rapida da cuocere, solo prende circa 3 minuti. Quindi prepara qualche acqua di cuocere, aggiungere il salto e, se vuoi, le pezzi del basilio. Cuocere la pasta e ora lasciare la magia che succeda. Aggiungere la pasta in un pollo e ricorda di salvare un'acqua di pasta, l'acqua, questo è cruciale. Lascia calciare un po' un po' se aggiungi il pesto in questo momento, diventerà più scuro e il risultato non sarà lo stesso. Ricorda, vuoi mantenerselo molto verde. Quando 30 secondi passi, aggiungi il tuo pesto e lasciare la magia che succeda. Vedete la creminità, il colore e, ancora, il sonno è incredibile. Ora parliamo e proviamo! E questo, ragazzi, è come vuoi fare il pesto. Vedete la pasta è molto crema e puoi finire, se vuoi, con un po' di pezzi sul topo. Solo non aggiungi troppo di pezzi perché non vuoi alterare la balanza del pesto. Il pesto è una ricetta veramente versatile perché lo puoi usare sulla pasta, lo puoi usare con la pizza, carne, pezzi, vegetali e molte, molte ricette diverse. Ci aggiungi il flavor solo perché è un mix di differenti, molto forte. Ti aggiungi solo di basil, pinnacchi, salto, garlico e un'olio davvero buon olivo. Solo sbagliati di usare un olivo davvero perché non vuoi coprire il flavor di altri ingredienti. Con il morta è l'ora originale per farlo. Ovviamente, puoi farlo anche con un mixer. Ma sbagliati, perché con il mixer tutto il pesto diventerà più caldo e per farlo rispondere a ottenere un pesto pezzi perché faranno la clorofilia che è dentro del basilico. Con il morta è, ovviamente, più difficile, ma il risultato sarà meglio. Quindi provate. Il pesto viene da Genova. Genova è una città davvero bella città nella regione di Liguria nel mare. E è molto bella per visitare da aprile fino ad ottobre. Durante l'esercito, l'esercito e la prima parte dell'automo puoi davvero ascoltare tempi davvero caldi e un mare davvero bello con molti piatti freschi e, ovviamente, molti fischi. quindi, se vengono in Italia, sicuramente mantenete un'occhio su Genova e visitate la città. Ora, proviamo questo bellissimo piatto di pasta con il pesto e vi farò sapere come è. Prendete un buon pollo e, come puoi vedere, puoi vedere la crema del pesto che è ottenuta solo mixando il pesto con un po' di acqua di pasta mentre mixando la pasta e puoi vedere i piccoli di basilico. ma, stop parlando il mio cuore si tratta e provate questo è fantastico il sapore davvero si tratta e è davvero mixato insieme puoi provare il basilico puoi provare il basilico puoi provare il pinaccio il salto e anche l'olio di oliva e, ovviamente, il cheese si tratta di balanzare tutti gli ingredienti che puoi trovare nella descrizione qui sotto per ottenere un buon buon sapore se non piace il basilico puoi cuocere il basilico prima sapore o si può rinforzare dalla ricetta il risultato non sarà stesso ma è accettato come vi vedete il pesto non è difficile a preparare tutto solo scegliere i ingredienti all'origine e mixarlo bene con un mortale quindi se ti piace il pesto mi lascia nei commenti sotto share questo video con i tuoi amici che amo pesto e abbiate al mio canale se non ancora attivate la notificazione per supportare il mio lavoro e non perdere tutti i prossimi episodi lascia nei commenti quale ricette vuoi vedere in questo canale ovviamente da Italia e ora finirò questo bellissimo pasta di ciao ciao